ciao a tutti allora buona domenica prima di tutto ma soprattutto buon inizio mese siamo ad ottobre e insomma è ufficialmente cominciato l'autunno personalmente ne sono contenta spero anche voi ma parliamo di fate e della sua ultima live perché sono state dette delle cose insomma che ho trovato abbastanza curiosa ecco innanzitutto ha parlato del fibrolipoma occiste che ha avuto chiara al seno ma di questo insomma potremmo anche non parlare perché è stato detto di tutto da tutti anche da me e insomma con anche abbondanza di particolari quindi se volete insomma in estrema sintesi possiamo dire che ha scoperto di avere questa questo nodulo chiara e dopo insomma una visita si è scoperto che non era nulla di preoccupante però lei nel frattempo insomma si era appunto preoccupata l'era venuta l'ansia come è normale che sia quando si scoprono qualcosa quando scopre qualcosa di particolare nel proprio corpo cosa l'è stato contestato però l'è stato contestato che lei ha fatto una live dove ha ingigantito la cosa per creare empatia nei suoi confronti in un momento in cui insomma si trovava abbastanza in difficoltà parlando insomma di youtube perché aveva appena litigato diciamo con fiamma poi la sera stessa c'era anche una live di fate quindi si è detto che chiara ha fatto questa live parlando di questo suo problema ingigantendolo oltremisura appunto per creare pathos sempre ovviamente nei suoi confronti e lasciando questa situazione andiamo ad altre cose di cui ha parlato fate ad esempio ha parlato di nonna wiz alias teresina alias luciana cioè la madre di chiara perché ne ha parlato perché sappiamo che questa questa persona praticamente è diventata ormai molto 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 tecnologica la troviamo sotto molti canali a commentare ma non è questa notizia curiosa anche se devo dire che lascia dei commenti come sempre abbastanza incomprensibili ma direi anche offensivi soprattutto ultimamente si scaglia contro virgi baby al quale ha dato definizioni abbastanza discutibili però ricordiamo insomma che lei cioè luciana si definisce una signora e quindi una signora ovviamente si comporta come tale e quindi offende a tutto spiano io insomma saluto virgi baby ovviamente questa persona c'è virgi baby una persona molto intelligente quindi sa come prendere le offese della della luciana insomma se l'è presa anche con rosicona che saluto e se l'è presa anche con me ma va bene così nel senso che se non se la prende con qualcuno comunque una giornata sprecata per la signora luciana signora insomma fra tante virgolette ma cosa c'è di interessante per quanto riguarda questa nonna che ha aperto un canale e posta posta tanta roba ha postato anche delle cose molto 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 discutibili e insomma che ricordano un po il suo amico del cuore werewolf però insomma pare che abbia un altro amichetto che le consiglia e le dà se non posta lui direttamente cose insomma da mettere sul canale ma a parte tutte le cose che lei posta direi molte noiose molte insomma che andrebbero riviste corrette magari anche cancellate cosa c'è di interessante che pare che si compra gli iscritti insomma anche la luciana compra gli iscritti perché perché fate ha fatto vedere che nel suo canale che contava insomma pochissimi iscritti ma si può anche comprendere insomma perché sappiamo tutti quanto ci vuole per far crescere un canale lei da un giorno all'altro si è ritrovata con una marea di iscrizioni ma veramente tanti 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 troppi ecco e quindi e si può comprendere un come posso dire una lievitazione degli iscritti soltanto se lei appunto se li è acquistati e evidentemente se ne accorta anche youtube se ne accorto anche youtube perché perché dopo un po questi iscritti sono scesi sono crollati praticamente li hanno tolti quasi tutti e quindi niente cara nonna ritenta sarai più fortunata io come ha detto anche fate direi cara luciana di non spendere la pensione nel comprarsi iscritti ma magari fare qualche regalino in più ai suoi nipoti ecco e tentare se ci riesce di crescere con le sue capacità ecco magari non verbali perché lì la vedo un po insomma come dire carente però insomma qualche cosa si può sempre fare e questo per quanto riguarda anche la nonna uiz invece poi passiamo a un altro argomento che fate ha trattato nella zona rossa quale sarebbe sarebbero gli acquisti di chiara molti di noi io direi tutti più o meno ci siamo chiesti come fa chiara a fare sempre spese soprattutto da primark anche di una certa consistenza non tanto per i soldi anche se insomma questi acquisti li fa più volte al mese a quanto pare ma anche per lo spazio perché insomma la casa quella è a un certo punto si può pensare che ormai l'abbia già riempita abbastanza e quindi ci si chiede dove mette tutte le cose che acquista e cos'è successo è successo che fate ha fatto vedere uno screen praticamente un fermo immagine più che screen dichiara che mostrava un uno scontrino lo scontrino dell'ultimo all di primark su questo scontrino cosa c'è scritto sono elencate tutte le cose che lei ha acquistato ovviamente per un totale di 169 euro di cui 30 euro e 48 di iva e fin qua tutto a posto nel senso che ha comprato degli articoli quello il totale c'è anche l'iva ma cosa c'è di particolare c'è sul controllo scontrino c'è scritto importo a pagare 169 importo pagato zero perché perché probabilmente chiara ha restituito delle cose appunto acquistate da primark e ne ha prese altre perché soltanto così si spiega che l'importo da pagare sia zero e qualcuno può obiettare che nel senso possono comunque accadere queste cose nel senso che posso acquistare delle cose possono non piacermi può non ci può stare che io le restituisca e che quindi mi venga insomma sostituito con altre cose e fin qui insomma siamo tutti d'accordo la questione è questa parte il fatto che quando si fa la spesa mi sembra un po strano restituire soprattutto da primark che ha dei prezzi abbastanza insomma bassi degli articoli fino ad arrivare a 169 euro ecco e dopodiché insomma c'è anche il fatto come ha detto fate che le queste cose le acquista le fa vedere le maneggia probabilmente insomma le butta a destra e a manca le fa stare anche insomma nella polvere di casa sua a contatto magari con i peli delle gatte insomma e queste cose qui dopodiché le riprende e le va a restituire con una scusa insomma o con l'altra per poi prendere nuove cose fare un haul insomma fare queste cose più di una volta nel senso non spendere soldi ma restituire merce che lei ha preso con cui ha fatto gli haul poi cambiarla con altra merce ci fa degli haul dopodiché restituisce e via facendo insomma e via dicendo e io credo che insomma questo sia abbondantemente dimostrato da questo scontrino perché altrimenti voglio dire il fatto che l'importo da pagare sia zero soltanto a questo si può attribuire perché il fatto che insomma lei comunque abbia pagato con una carta abbia pagato con clarna abbia pagato con qualsiasi mezzo a disposizione mi sembra insomma abbastanza strano abbastanza atipico che poi l'importo da pagare sia zero in ogni caso questi sono i due argomenti che mi hanno colpito per quanto riguarda insomma la live di fate perché io credo che a questo punto lei abbia dimostrato che la nonna weeds cioè luciana acquista gli iscritti li acquista lei o glieli acquistano io adesso questo ovviamente non lo so non c'è dato saperlo ma insomma questo è perché ribadisco ne aveva tantissimi in poco tempo e poi le sono stati tolti quindi insomma penso che non ci siano dubbi sul fatto che lei questi questi scritti se li sia accaparrato insomma in modo non corretto e anche questo questa questione di chiara che restituisce le cose anche questo insomma direi che ormai ci sono le prove e quindi sappiamo che non tutto ciò che acquista chiara poi se lo tiene ecco alcune cose le restituisce e le cambia con altra merce e questo era il riassunto per quanto riguarda gli argomenti che mi hanno colpito insomma per quanto riguarda la live di fate alla quale faccio i complimenti per l'outfit insomma faccio i complimenti soprattutto per ciò che madre natura le ha donato e viene proprio voglia di cambiare il nick in il davanzale sulla finestra allora io vi saluto vi ringrazio per avermi ascoltata come al solito se volete lasciatemi un like se volete iscrivetevi al canale se volete lasciatemi un messaggio ciao a tutti un bacio e ancora buon inizio di mese